Senti di Roma, vi salutiamo, qui come vedete si lavora ancora, anche se i tempi politici sembrano darci un attimo di tregua, ma non intendiamo abbassare la guardia. Qui in questo momento abbiamo un incontro con il senatore Vita e con tanta gente della rete. Ok, facciamo una panoramica, ci siamo messi in uno splendido gazebo dove possiamo lavorare anche se fuori piove e con questo vi salutiamo.